180.000 euro all'anno per l'acquisto da 6 Toscana dei sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta. Un costo giudicato esorbitante, per questo la Giunta Ghinelli ha deciso di sospendere il servizio di distribuzione. Era stato il Partito Democratico con una interrogazione di Claudio Maurizzi a portare l'argomento nell'aula del Consiglio Comunale parlando di smantellamento della raccolta porta a porta. Per il momento abbiamo deciso di sospendere la consegna dei sacchi. Questo non vuol dire che chiaramente si interrompe il sistema di raccolta porta a porta perché comunque, come ho avuto modo di ribadire, si possono utilizzare i sacchetti che ogni famiglia ha in casa quando va a fare le compre, anzi è un'ottima tecnica di riuso e di riciclaggio della materia. Premesso ciò stiamo lavorando con l'ATO Toscana Sud, che è il soggetto che regola il servizio Consiglio di Toscana per far sì che la distribuzione dei sacchi sia in qualche modo regolata da ATO Toscana stesso in quanto deve ovviamente definire il costo unitare del singolo sacchetto e rendi contare l'attività effettivamente effettuata. Ci aspettiamo da questo delle economie importanti perché 180 mila euro per la consegna dei sacchi, tra l'altro non su tutto il territorio aretino ma solo in talune zone sia del tutto esorbitante. Non si rischia secondo lei di disincentivare la raccolta differenziale? Non si rischia di disincentivare, cioè in questo modo chiaramente è un ausilio un po' in meno, però chiaramente bisogna anche tenere d'occhio i conti generali. Non ci possiamo permettere ovviamente le evitazioni incontrollate della Tari perché già è una posta molto importante per il Comune d'Arezzo e soprattutto per i cittadini.